Di addio a gocce e fuoriuscite di olio o condimento. Scopri Condi e Servi Flexi, un modo semplice e ordinato per conservare e servire olio, aceto, salsa di soia, ketchup, maionese, salsa barbecue, salsa piccante, miele, salsa fredda al cioccolato, al canello, sciroppo d'acero e molto altro ancora. Servi le tue salse e i tuoi condimenti fatti in caso o acquistati in negozio semplicemente premendo per aprire il tappo e spremendo. All'interno del tappo è presente una valvola dosatrice in silicone grazie alla quale riesce ad avere un controllo preciso sull'erogazione, infatti il flusso si interrompe istantaneamente quando smetti di spremere. Oltre ad aiutarti a mantenere pulita la tua cucina senza perdite di olio o condimenti o rischio di fuoriuscite, la chiusura ermetica riduce anche l'ossidazione del contenuto per una conservazione più lunga. Base trasparente per visualizzare a colpo d'occhio il contenuto, con di esservi e anche un ottimo compagno di viaggio, portalo con te per barbecue, picnic, campeggio e altre occasioni. Se il video ti è piaciuto lascia un like!